Ciao a tutti, in questo video vi parlerò di alcune proprietà della betulla. Le principali proprietà della betulla sono diuretiche, antinfiammatorie e benefiche per i reni e tutto l'apparato urinario, ma non solo. La betulla è usata principalmente contro la ritenzione idrica, come drenante e diuretico, ma ha anche virtù depurative. La betulla ha anche proprietà acole eretiche che significa che fa aumentare la secrezione della bile con conseguente effetto benefico sul fegato. Per uso esterno, la betulla è utile per il trattamento della caduta dei capelli, del sudore dei piedi, delle affezioni cutanee e dei reumatismi. La betulla, se frizionata sul cuoio capelluto, previene la caduta dei capelli. La betulla trova largo utilizzo anche per curare problemi alla pelle. L'olio di betulla è efficace per curare psoriasi, verruche, piaghe ed eczemi. Per questo video è tutto. Al prossimo! Grazie! 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 Grazie!